Big Basket è la vaschetta più grande della famiglia Evo Tripod, si inserisce tramite l'aggancio angolare sul picchetto singolo, sul picchetto con gambe e su qualunque picchetto angolare nel commercio che sia da 2 cm e metro, che sia da 3 cm, che sia spesso 2 mm, che sia spesso 3 mm quindi compatibile con qualunque angolare e qualunque picchetto in commercio vediamo come si inserisce e a che cosa serve semplicemente inserendo il picchetto all'interno dell'asolo angolare Big Basket è realizzata con un'angolazione in modo da rimanere in piano quando il picchetto è piantato con i suoi classici 20-30 gradi verso mare si inserisce da sopra, si stringe dal comello centrale ma scarica in peso nella parte interna quindi è molto potente, è possibile inserirci dentro di tutto è possibile già portarla piena di tutti gli accessori e metterla al momento della pesca oppure utilizzarla come grande maschetta porta-esche quindi scotarci dentro anche due scatole d'arenicola dato che il Big Basket porta con sé anche un pratico porta-aghi per tenerli sempre a portata di mano Big Basket non finisce qui per gli utilizzi più gravosi, per gli utilizzi invernali abbiamo realizzato il top del Big Basket che è questa lastra in alluminio scorrevole con spivettatore che si inserisce ad incastro e rimane scorrevole sul Big Basket si può chiudere, si può utilizzare come top, si può utilizzare lo spivettatore ma comunque rimane poi tutta l'efficacia e la capacità, la capienza della basket stessa Big Basket non finisce qui se vi piace mettete un vi piace se non vi piace non ti terrà nessuno ciao 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 ciao